Un cordiale buongiorno da Andrea Viagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo ancora dalla FIPILI dove a causa dell'incidente avvenuto questa mattina a Dempoli Ovest in uscita in direzione Firenze permangono 5 km di coda tra San Miniato e Dempoli Ovest con code in entrata e in uscita a Dempoli Ovest. Da segnalare anche 2 km di coda a causa di lavori tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze e rallentamenti in direzione Livorno. In A1 a causa di lavori e del traffico intenso code a tratti tra Valdarno e Firenze in Pruneta in direzione Bologna. Da segnalare anche code a Firenze Sud in uscita in entrambe le direzioni. Rallentamenti invece tra l'allacciamento con la 11 e il Bivio con la variante del Valico in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!